Per il nascondino, prova di indovinare a tema che cosa Eeeh, non lo so, Steph Allora, guarda bene la villa Ok Guarda bene in alto No, guarda proprio in alto, in alto, in alto Vedi, lì sopra, che c'è qualcosa di fermo La riconosci? Sì, ma io stavo guardando anche il balcone, cioè non hai visto che c'è una persona nel balcone? E quella lì in alto non la noti? Sì, la noto, è molto inquietante, Steph, è Momo, vero? Sì, è Momo, esatto, 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 è Momo Perché, Steph, dobbiamo fare un nascondino con Momo? Non lo so, Fede, l'abbiamo portato una volta e i consolini ci hanno fatto Fate nascondino con Momo, fate nascondino con Momo, fate lucky block con Momo, fate lucky block con Momo E quindi qualcosa dobbiamo fare per forza, Fede, dobbiamo contendere Dai, ci sta, per i consolini moriremo di paura con Momo Villa super mega gigante, preparata dall'assistente segreto numero due Che ragazzi, indi... ah no, aspetta, non lo so Quando esce questo video potrebbero avere due indizi sul nome e non uno Ah, ok Comunque facendo un recap, H ed E Questo è l'inizio della casa, io farei, uno decide di andare a nascondersi Quindi di poter incontrare Momo, mentre l'altro sta qua all'entrata Tu ti nascondi, vai, ciao, Steph Proprio zero dubbi, vai, zero dubbi Va bene Muoviti Ok Mi metto qui all'ingresso a fissare un mattone, un muro di mattoni e vai Porta Ok Allora Interessante Aspetta, Steph I nomi I nomi? Oh, cavolo Brava Devo nascondere i nomi, aspetta, aspetta Faccio io, faccio io, faccio io Che stai a fa? Niente Allora, devo fare un po' di comandi qui, è molto complicato Non ti piacerà cercarmi, te lo dico Ok Non ti piacerà proprio per niente Allora, ok, va bene Qua, immagino Che stai combinando? Nulla, nulla, nulla Mi sto divertendo Ok Sì Ok Allora, se ti devo dare un numero ci sono almeno dieci momo Almeno Minimo Quindi le troviamo pure in giro per la casa No, no, è proprio zero, Fere, zero, zero Allora, sono un po' indeciso su dove nascondermi Quindi sto continuando ad andare un po' in giro Perché è pieno di nascondigli Passaggi segreti proprio Ok Dai, muoviti però, Steph Non mi puoi lasciare così due ore Muoviti Hai fatto? Steph, vengo a cercarti Steph Eh? Vengo a cercarti Dai, arrivi Steph Cosa è successo? Vai, Fere, vai pure, vai pure Non me ne frega più nulla Allora, chi deve sparare? Chi trova o chi è nascosto? Eh, ovviamente chi trova, Fere, come sempre Ok Ok Quindi distruggo Ah, qui ci sono cose strane, infatti Immaginavo ci fossero dei passaggi segreti E ci sono delle ragnatele Che noia Steph, che combini? Nulla Per ridere a nessuno No, no Io sto ridendo Allora È pieno di bottoni Che poi non so quali siano i passaggi segreti reali Oppure no Pensavo è pieno di Momo Anche quelle, vero? No, ancora non ho visto Mi hai incontrato? No Zero Perché, allora, sono entrata in una stanza Che ha un passaggio segreto Ma appena entri Ha delle ragnatele Ok Dai, fammi premere E quindi ti sei incastrata per un sacco di tempo No, non riesco a uscire Mi dispiace Perché devo aprire la porta con un bottone, ok? Ok Che però le ragnatele non me le fanno Non me lo fanno premere Ok Ok Però praticamente Se lo premo prima di andare nelle ragnatele Sono talmente lenta e non riesco a uscire Mi tocca spaccarla Spacca le ragnatele Non so se Fede è preoccupata per Momo Se è perché ha appena finito di pranzare Non lo so Dai, basta Ma mi sembra Ma non è in forma del solito Se vedete Cioè, proprio Io ero mezzo in giro Mi avete visto Cosa è successo Tutti i problemi che ho avuto E lei niente Ma Steph, che cavolo vuoi lei niente? Sono incastrata in una stanza con delle ragnatele Che cavolo vuoi? Te l'ho detto cinque volte Ecco la prima Momo, ciao, 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 ciao Ciao Quella del balcone, ok? Sì C'è lentissimo Eh, vabbè, basta camminare nella vita Non ci vuole molto Qui c'è qualcosa, c'è Steph Non è vero Dai, vedo qualcosa che esce fuori Sei tu Ok Allora, Steph Cioè, ti usciva fuori una parte di braccio Di non so cosa Vedevo una parte della tua skin fuori, Steph Davvero? Sì Ecco perché mi hai visto E cavolo, certo che ti ho visto là E che ne sapevo che sbuccava fuori il braccio Porca miseria Eh, non andavo Ah, vabbè, inizia pure a nasconderti Tanto io sono già qua Dai, ma che noia, Fede Era bello come nascondiglio Te l'ho detto che si scassa Avevo un po' di Pepsi Ok Ti trovo in due minuti Vai, ho fatto Davvero? Boh, sì, ho girato una stanza E ho trovato un nascondiglio E mi ci sono messa Ma tu non... Tanto è pieno Quindi comunque perderei molto tempo A girare in zona Voglio la tua reazione a tutte le Momo Perché ce ne sono tantissime Eh, appunto Per quello non smetto di girare troppo, Steph Andiamo lì in zona e ciao Tanto è pieno Che devo fare? Beh, Fede, ho capito Però, cioè Ti puoi impegnare un pochettino Mi hai già trovato? Sì, Fede Dai, non ero così visibile C'era Momo che mi nascondeva Maledetto C'è un passaggio segreto Cosa ti è successo, cara? Non sono entrato in quella stanza Quale? Questa? Quella dove c'è il messaggio? Sì Guarda dietro ti giri E ti sta attaccando in faccia È quello che ti volevo far vedere prima Questa è cattiveria pura, eh Cioè mi ha fatto scendere un colpo Quando prima io non mi stavo nascondendo E dero zitto Perché mi era appena capitato quello Cioè che tu non la vedi entrando Quindi da dov'è che esce fuori? Lo so E sta sopra Sta sopra Aspetta Maledetta No, basta Mi allontano a gomme elevate da quel posto Ai, ai, ai Mi piace però quando ci sono Le persone a tema che rompono le scatole In mezzo al nascondino Mi piace No, a me per niente È stato orribile È stato orribile È molto bello Mamma lo tiene compagnia Cioè ti aspettavi un jumpscare In una mappa di nascondino di Minecraft Io no personalmente Io sì perché lo sapevo E non me l'hai detto Eh no Cioè guarda dietro E ho detto vabbè Sai che poi ho fatto il classico ragionamento Tipo vabbè Ma tanto non c'è niente dietro Capito? Ma figurati se c'è qualcosa Mi giro e mi trovo Quel faccione enorme che mi attacca Dai Momo Non rompere Sei di nuovo nella stanza? Sì Ti conviene spararla Secondo me se la spari È strautile Ci stava Ci stava Non aspetta Momo hai visto una fere? Dammi una mano Momo Dai Se mi dai una mano Ti metto nel canale a posto di fere Quindi Non penso che la vogliano Stef Cioè fa venire Crepa a cuore a tutti Quindi non penso che sia ben voluta Non ho idea Di dove potresti essere Cioè a livello di passaggi segreti Che io ho visto Ok Per me non ce ne sono altri Mi sei anche passato davanti Quindi evidentemente ti sta sfuggendo Fede c'è un indizio per il nome Dell'assistente segreto L'ho visto Dove l'hai trovato? È nascosto anche lui Allora Dovrebbe essere la sua skin Io non ho mai visto la sua skin Sinceramente Però dovrebbe essere la sua skin È molto probabile E questo qua è un indizio Che vi fa capire La terza lettera del suo nome Quindi teoricamente sapete H E E la terza lettera è la N Dovamo parlarci? Magari ti dice qualcosa? Da sto destra? Eh Niente No Ci ha solo salutato Ok Magari mi ha lasciato qualche conversazione Con Salini mi raccomando Siete altre lettere Non fate una figuraccia Prima o poi lo dovete azzecare Come avevo detto è un nickname Infatti capite bene che H-E-N Non credo esista nessun nome Italiano normale Con queste lettere all'inizio La cosa che mi ha fatto più ridere E che ha fatto ridere anche all'assistente Perché ci abbiamo parlato È stata Ragazzi un nickname Non è un vero nome E tutti i nomi sono stati Ma Enrico Ma Gianluca Ma tutti così Tutti così Vabbè il primo indizio Non è un nome esistente Italiano È un nome inventato Ok Così è più facile Anche per lo rindovinarlo Ci sei Stef? Eh ti sto cercando Ti ho detto Mi sei anche passato di fronte Io ti ho visto bello Passeggiare lì Ma quando? Prima Ma molto tempo fa Eh ma non lo so Stef Ci siamo persi un po' a chiacchierare Sull'assistente Non lo so Ma stai scherzando Sì un po' di tempo fa Te l'ho anche detto Prima che tu trovassi l'assistente Ti ho anche fatto Stef mi sei anche passato di fronte Quanto timer abbiamo Prima di tutto Ho vinto Non ho vinto Non puoi vincere Dove le hai trovate queste stanze? È un altro Ma dove stai passando? Ma che ne so Fere mi son perso È quello il problema Ci sono davvero tutte queste stanze? A quanto pare Ma sei finito Stef Cos'è questa? Non lo so Magari un inganno Boh Vabbè Me ne rivado Ma dov'è? Dov'è Fere? Allora Secondo me è qua Qui Vediamo Stef non ho mai visto quelle stanze in vita mia Cioè ti Fere il pieno terra È pieno di stanze segrete Ah io andavo solo in una Ce n'è una qua Ce n'è una qua E ce n'è una là Ah ecco dove sono Bello Sì Quindi tu si è pieno di sopra Sì esatto Ma non c'erano altri passaggi segreti? Boh Stef ti ripeto Ti ho visto passare di fronte Ti ho dato anche un indizio enorme Quindi ho vinto Anche se mi trovi Basta Ma che? No Ho vinto Non funziona Ho vinto Stef Non puoi scegliere le regole ogni volta È perso È perso chiaramente Ci sei due ore È chiaramente perso Non puoi E poi dove sei? È un passaggio segreto Eh ho capito Ma non ce ne sono Eh non lo so Ma da lì non ti so dire dove è Stef Non lo so Non mi ricordo Ma tu sei qua Io non avevo voglia No Sa che non c'è nulla lì Appunto Parcavere Eh Ma Dove? Non ti Ti Boh E cerca meglio No non mi ricordo più In che stanza sono Vedi? Ciao Momo Ma aspetta C'è il copia in colla Del mio nascondiglio È fatto? No Non è qua La sto per ammazzare No cioè dai È impossibile Cioè non sei in questa stanza Giusto? Più o meno Ti vedo Mettiamola così Però ti vedo anche Quando passi in corridoio Quindi Aspetta Trai le tue conclusioni Cioè Esatto I passaggi Cioè fai pena Io Fai pena A parte che Sono entrata in questo passaggio Dopo Cioè da questa stanza Delle poltrone Pensavo si chiudesse qui Come il tuo E invece poi ho capito Che portava il corridoio Quindi mi sono messa lì in mezzo Ha funzionato Step 2 Di fatto non l'hai controllato Quindi ho vinto Un round va a me Mi sono già rinascosto Davvero? Sì Davvero E allora sei al pieno di sotto Sei al pieno di sotto Bell'inizio Ci hai messo troppo poco tempo Non sei salito su Perché io ho sceso le scale Vediamo se mi trovi Allora cara Eh sì che ti trovo Spero che Momo Ti ammazzi di nuovo No lascia perdere Alle spalle Non ci entrerò mai più La lascia perdere E magari ce ne sono altre Di fatto qua non hai ancora visitato Tu cara 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 Che stai a dire Hai paura? Qui c'è qualcosa? Sì Ah ci sono entrata agli inizi Mi sa Quando ho dovuto togliere La ragnatella Infatti è per quello Che ho lasciato perdere Il primo piano Ok Guarda che bella cucina Che c'è Tu andavi sempre sopra Questa è enorme di Momo Infatti ho notato Che hanno altesse Ce ne sono più o meno grandi Sì Che hanno altesse diverse Più o meno grandi Alcune erano più basse di me Questa è enorme Vai via Ok Mi sembra un po' in difficoltà La signorita Mi sembra un po' in difficoltà Cioè comunque Sapendo che sono al pieno di sotto Mi avrei voluto trovare In molto poco tempo No rompo Comunque è probabile Che tu sia entrato qua Anche se io avevo tolto La ragnatela Ok Magari sei Eri tu Cosa? Dove sei? Eri tu? Dove sei finito? Dove sei finito Steph? Come faccio via Non vedermi? Scusami Non lo so No Stai dando il coltello Anche tu Cavolo Ti ho visto a coltello Ho detto Deve essere un combattimento Ma come hai fatto a non vedermi? Perché ero intenta a guardare qui dentro Quindi mi hai fatto il giro Non lo so Eh ti ho fatto il giro Mentre entravi Ma Cioè Due secondi Non mi potete Vabbè In ogni caso ci fermiamo Ti ho trovato Ok Fai schifo Hai detto tutto il tempo Un pochino Iscriviti al canale Campanellina Ci vediamo in un prossimo video Ciao 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 ciao